Pubblicato il bando che avvia la 33esima edizione del progetto di storia contemporanea del Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale e le province. Il progetto propone agli studenti e ai loro insegnanti un'occasione di studio e di ricerca su tre tracce l'8 settembre 1943 e la condizione della prigionia militare in tempo di guerra, le violenze gratuite e sistematiche a cui vengono sottoposti i civili durante i conflitti e infine la Shoah e le manifestazioni di razzismo e discriminazione.